Musica Approvata all'unanimità nel corso del Consiglio Comunale che si è tenuto ieri, giovedì 29 settembre, la variante urbanistica, prerogativa necessaria per procedere all'importante ed ambizioso progetto portato avanti dall'Associazione e la nostra famiglia, che prevede la riconversione dell'ex Hotel Due Torri in centro di assistenza sanitaria e sociosanitaria per persone con disabilità e svantaggiate. Dopo il via libero ottenuto dalla Regione Campania e dalla provincia di Salerno nei mesi scorsi, la seduta del parlamentino cittadino di ieri ha sancito la fine del lungo ITER, partito nel lontano 2007. Così, se non dovessero esserci in toppi inaspettati, a breve Cava De Tirreni potrà vantare un centro di riabilitazione all'avanguardia. Dopo tanto tempo, finalmente possiamo dire che è finito un percorso e sicuramente si apre quello che mi auguro porterà nel più breve tempo possibile alla realizzazione di quest'opera. La nostra famiglia naturalmente già opera sul nostro territorio, quindi noi la conosciamo bene, conosciamo bene le attività che fa. C'è da ribadire che in questa proposta progettuale loro non utilizzano nessun tipo di finanziamento pubblico, ma contano soltanto essenzialmente sulle proprie fonti. E quindi voglio dire che è sicuramente un intervento che non può essere considerato che ammirevole. Soddisfazione espressa dal primo cittadino Vincenzo Servalli per aver sbloccato un procedimento importante al termine di un percorso durato circa dieci anni. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato l'attuale amministrazione regionale per aver contribuito concretamente alla soluzione della vicenda. Ringraziamenti non condivisi dall'ex sindaco Marco Galdi, che ha rimarcato l'attivo impegno anche della precedente amministrazione regionale in attesa del progetto definitivo, arrivato solo nel 2015, che ha permesso di sbloccare la situazione. Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, nel corso della discussione in aula, il consigliere Antonio Barbuti ha invitato i dirigenti comunali di competenza a controllare le autocertificazioni presentate dai progettisti nominati dai privati prima di procedere alla realizzazione del progetto.